e ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video ora faremo il contenuto di Keshok Lema lo so, non sarei tanto aspettato, ci ho voluto un bel po' e vabbè, iniziamo il video ah, ovviamente vi ricordo di iscrivervi al canale e con tutti i vostri amici condividere sempre tutti i video e di dare la campanellina per non perdere nessun video bene, ragazzi qua, lo so, sono un po' ricco ho fatto delle modifiche, questo qua il mio accampamento, tanti soldi poi anche di qua, non è che sia tanto bravo non è che sia il ragazzo più bravo in tutto il mondo però neanche più scarso qua, come vedete i soldi sto arrivando a 100 pari di Milo però questo c'è come vedete 154 bene potremmo iniziare ma quante gemme 25 e singolo ragazzi sono molto avanti oro degli schiocchi vabbè e non questo a me ne servirà elixir soprattutto a me ne servono tipo 10.000 o 15.000 oh e questo però ecco andate che io ne ho 14 ragazzi questo qua è molto molto forte vedendo il municipio c'è il livello 5 penso che non ha gran credo tutta l'altra roba ragazzi lo so io direi di no no ragazzi fidateli ho fatto il perfetto di questo è che a me mi serve tipo solo uno che abbia solo non tipo questo è buono perché potrebbe essere subito lì come vedete cioè guardate cioè guardate distrutto disintegrato ora pen pen e questa partita è già portata a casa ah che bello ragazzi vedete che praticamente queste robe vanno prendono così scoprì scoprì ecco c'è guardate come vedete Oh adesso ragazzi iniziano a svolazzare Oh bello ragazzi Oh bello ragazzi Oh bello ragazzi Oh bello ragazzi Vinto E vabbè adesso attaccheremo Ah ragazzi come volevo dire sono in vacanza a Camerota un posto al sud Oh no no amici Tesoriera Oh tesoriero Clan Mi nusco ragazzi per svizio Ah è vero Non ho niente adesso metto le truppe per il prossimo video Come vedete l'unico che ho due lì Direi di mettere il mio solito attacco che è 20 barbari che sono un bel po' E non 21 No ecco No no 10 6 1 2 3 E 4 E rifacciamo la stessa cosa Sto sperando che mi basti l'elisir Ok ragazzi E basta Per il prossimo video è già tutto pronto Andiamo qua Ovviamente non è che sono tanto forte Però Oh guardate 4 4 4 Vabbè 0 Se il video non è che sono giro Eh vabbè possiamo andare Oh 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 Che vergogno Oh no, 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 no. No, che vergogno. Ragazzi fa l'1%. Oh mio Dio, oh mio Dio, oh mio Dio. No, riguardiamo, no, no. Non ci credo che ha vinto, no. Non rifiuto di aver vinto. Come? Ho tratto a metterlo proprio lì, non è che sia una cosa più intelligente. Allora sei intelligente a metterli lì. Ma... Non lo voglio riguardare. Vabbè raga, 40 mila. Buono. ... Vabbè, io non so cosa migliorare. ... ... io raga vi dico teniamoli perché io guardate no raga diventiamo imbattibili aspettiamo anche due ore ma diventiamo imbattibili con sta roba vabbè raga attacchiamo di nuovo japp Mesa adesso siamo scontati il mio friccio da un momento aò stocco la stocco 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 Ah ma quanto è lungo Fatto più pena di prima Vabbè se vinco anche questo giuro che mi sparo No lo so che non è bello perdere Ma mi sembrava improbabile Non c'ho voglia di aspettare Ok Japanese Se non ti danno felicità Dammeli Vabbè di passare Molto budget Ascoltando il gange Gange Stai dando felicità Dammeli Molto budget Sì ma raga quanto dura Raga è durato un'eternità Distruggere Bella roba Bella roba Bella anche questa sicura Ma raga sto facendo schifo Non c'ho voglia di aspettare Che appena quella diventa imbattibile Dammeli 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 Grazie.